Ciao a te ben tornato su Yakuza Forse ho trovato Ma perché Vabbè io vi faccio fuori Nella maniera più veloce possibile Cioè a cazzottoni C'è cazzottoni quelli pesanti Dammi Aruka Ora Ok Ma però La crew bianca Ok Ok La crew bianca Ok Se Ok Ovviamente Sono Vabbè Scusate Body Perché il body è importante Ma si tu Va bene così Ehm Ehm Sì Dicevo Immagino Suppongo Penso Credo Che gli stronzi Che gli stronzi siano Qua Public Park 3 Quello era il Public Park Ah Per favore Tu Gli stronzi erano al Public Park Probabilmente quelli bianchi saranno anche loro al Public Park Non Dicevo Non Non Scusate Non 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 Cazza Sono Soltanto Idiota No Gioia Vendeva le sigarette di contrappando pur di Paglio Cazza No Papà Eh Il 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 di Orchidus... Ehi, finalmente! Mi stanno arricchiendo, sono veramente felice! Ok... Il celebrity parfum... Wow! Ok... Come corri... E' finita pure questa... 10.000 esperienze... Bellissimo! Ok... E' vero! Equipaggiamento! La cosa di più potente di questo... Ombrello colorato? No... No, neanche di questi... Eh... Vita... Beh... Ci sarebbe sempre... Cappuccio, ma... No... Ok... Sì... Niente, scherziamo... Dove andare a trovare il covo... Dei cappuccini bianchi... Sì... A dopo! Sto parlando... Forse l'ho trovato... Ok... E si fa qua... Vieni il tuo leader... Ti stai... Chica... Tació... È una opzione... Hahahaha... damn... Oh... Vieni il fatto... No, vieni la... T'i in a pescazza... Vieni la... Vieni la... Come... No... Vieni la... Eh... Vieni la... Questo vecchio morirà ora, questo vecchio, tu puoi tenniare, scusa. Ok. Ma no, mi vecchio, eh, mi intenziona, morirò oggi. Tu è stato il primo. Oh, sono riuscito a colpirmi, Ciccio, se sei bravo allora, guarda qua, bravissimo. Gravissimo. Scusate! ok non devo sbrigarmi devo proprio volare levatevi tutti dalle palle le popole dovete sparire ok ok debula deve andare al debula a quanto pare oh vi prego non ce la fate a stare buoni lo sapete che prendete frappegnate di legnate e la canottiera sopra la maglietta non ti fai schifo la tua madre è scontenta di te ok forza stai camminando per strada anche io non ti fai schifo i due un sacco di membri delle gang sono per la strada sono anche nel suo locale comunque ok operazione numero 1 andiamo a picchiare gente Questa è un po' Altrimenti cosa? Come altrimenti cosa? Altrimenti di fischio male. Altrimenti ti bastono allegnate malissime. Ok, il leader è giù. E io sto arrivando a picchiarlo come una zampogna. Ecco. Dov'è? Ah, è sempre di là. Ah no, non devo andare di là. Ok. Ok, leader. Allora ci provo. E ci provo a lasciarti qualche dente intendo. Ma non ti assicuro niente. Ok, però inventario. Capito? Un po' di salute non fa mai male. Ok, grazie. Ok, carico. ma questo è un buffetto a te ma che è il tizer tu ma seriamente ok vabbè tu fai tutto il ballerino ma questo è un buffetto Eccolo Ma vabbè che già mi stai rompendo otto noni di pene. Ok. La A Rauka. La A Rauka. 12 anni fa Ok Quindi dobbiamo lavorare per prenderci Quindi io coopererai con noi Questa è un messaggio più semplice Ok Vivo? Kazama! Posso sacrificare una Gamboglia? Oh, hai capito? Da chi è arrivato? Batman! Quello che ha inizio a Haruka Non ha mai il fiatone È perfetto quest'uomo Quindi lui ha preso Haruka Andiamo al Purgatorio Dove? Dovrei... Hai trovato Haruka? No, non è ancora Capisco Dov'è non scudì al Purgatorio? Ok, vediamo al Purgatorio Tu che vuoi che poi mi ascolti? Ok, no, dalle scuole Ok, no, dalle scuole Ok, scusa Boom 234 234 Ok, il corpo, il corpo Ok, fatto Adesso Adesso posso concentrarmi Sulla abilità da 82 Salute aumentatissima Proprio al massimo Purgatorio 22 23 24 Previene tutto il danno Quando sono così Un esplosivo attacco 23 24 28 32 chiede Guito ah non ho più vabbè niente stavo anche alleggiando va bene andiamo al furgatorio eh sì sì come? come? che stai facendo tutto? è certo che intervengo sono andata a vedere il brand guarda lo faccio per il bene dei tuoi capelli vabbè che è questa cosa? vabbè 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 oh madonna un altro ancora devo intervenire per forza jacuzzo jacuzzo hai problemi con me? ok ok che cosa? oh 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 ho un paio di cose per fonderli no a me non ci voglio credere oh 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 perché non riesco poi a farmi i cavoli miei? sono soltanto dei poligoni ah no oh 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 benissimo ok di nuovo ok devo andare al furgatorio quindi alla stanza date chissà era data gian gones casso ho zaita al carino ok ok parlami quando sei pronto perché probabilmente tra l'altro il potente conduzirli lo stile brawler wow もし俺が刑事になってなかったら 何よ 横浜へ向かう準備はできたのか Anjama Yokohama Ah, sì, capito Anjama Yokohama Sì, hai chiesto una macchina? Sì, ora sono benvenuto alla regione della regione Quindi, lei ha avuto la proposta di lei Vedi un'evento, non? Oh, non c'è un'attività di un'attività Oggi non sono 30, non è vero. 30? Quindi, Shimano è 70? Non, io sono 50. Quindi, il resta 20. Oh! Lì, vieni. Vi raccontare. Questo è il terzo in Alianza Omi. Allianza Omi. Allianza Omi. Grazie a tutti ho capito quindi stanno facendo un bordello sti pizzi che bella questa cosa di nuovo un altro salvataggio completo andiamo avanti capitolo 9 rescue andiamo a prendere L'Au Carlon? L'Au Carlon? D'라고 ha avuto l'acqua. Sì? Ok, Kiryu. Prenda è la parola. Non è vero che il ragazzo che avviene. Dato, Haruka ha visto un po' di non vedo la mia madre. Sì, non ha mai visto una persona a casa in quel momento. Non è vero. Nella nuova. Non è vero. Sì... Ma non è vero. Allora, non è vero. Ah, sì. 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 Okay. Ah, sì. 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 Ah, sì.